Buonasera a tutti e grazie di essere così numerosi stasera per questa importante mostra. E riaprire con una mostra di valore internazionale con un artista della carattura del maestro Baci è per noi chiaramente molto importante. Perché è la prima e l'ultima delle mostre della mia vita. È una mostra intima perché vi lasciamo entrare nello studio del papà.